A ottobre misero in atto un vero e proprio raid punitivo ai danni di tre cittadini tunisini, minacciandoli e colpendoli con pugni. Sei persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Frascati per minaccia aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Il provvedimento trae origine dall'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Roma Torre Bella Monaca e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, a seguito del rinvenimento di un ogiva e di un foro nella vetrata di un balcone posto al primo piano di un immobile che affaccia su via Paolo Ferdinando Quaglia e che ha consentito ai militari di studiare l'ipotetica traiettoria del colpo esploso e sequestrare l'intero impianto di videosorveglianza di un bar situato a pochi metri dall'abitazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri alle ore 23 di un normalissimo sabato sera, lo scorso 23 ottobre un comando di sei soggetti, di cui uno armato di pistola, ha messo in atto una vera e propria spedizione punitiva contro tre cittadini tunisini, minacciandoli e colpendoli con calci e pugni. In pochissimi secondi il bar, a quell'ora molto affollato, si è svuotato, ma nessuno dei presenti ha contattato le forze dell'ordine. Al termine dell'azione sono stati esplosi anche dei colpi di pistola in aria. La vicenda non è apparsa essere episodica, soprattutto per i precedenti di alcuni appartenenti al comando e per il fatto che due dei tre cittadini tunisini sono stati già in altre occasioni feriti con colpi di pistola. A seguito delle serrate indagini dei carabinieri della stazione di Roma Torbella Monaca, la Procura della Repubblica di Roma ha richiesto al GIP l'emissione delle misure cautelari in carcere per sei persone, gravemente indiziate di essere i componenti del comando che, alle prime luci dell'alba, sono stati arrestati e condotti presso le case circondariali di Roma Rebibbia e Regina Celi.